Seduta a fiume, quella odierna per il Consiglio regionale toscano, tanto che la riunione della Commissione Affari Istituzionali, che doveva esaminare le proposte di legge elettorale, è stata rimandata domattina. In discussione una serie di misure economiche, come il documento annuale di programmazione, la cui versione definitiva dovrebbe essere presentata in autunno, i cui contenuti a grandi linee sono stati portati in aula dal Presidente della Regione Enrico Rossi, a partire dalla decisione di anticipare fondi comunitari per erogare finanziamenti a favore delle imprese che hanno visto aumentare fatturato e occupazione. È una scelta nuova, abbiamo anticipato 90 milioni, questo avrà l'effetto di spendere subito il miliardo che ci arriverà dall'Europa e entro giugno dell'anno prossimo noi saremo in grado di trasferire questi finanziamenti alle imprese dinamiche della Toscana. Ci sono poi gli investimenti collegati a quelli previsti dallo Sblocca Italia del Governo. La bozza Sblocca Italia del Governo Renzi prevede che ci sia un investimento di 220 milioni sulla ferrovia Lucca-Pistoia. Noi per il raddoppio dei binari ne metteremo altri 200 come Regione Toscana, che si aggiungono ai 36 che abbiamo già finanziato per l'abbattimento dei passaggi a livello e finalmente modernizzeremo quel tratto di ferrovia che è il peggiore e uno dei più lenti della nostra regione. E poi si annuncia sempre nella bozza del Governo Renzi i 270 milioni per la Tirrenica, è cosa a cui noi teniamo moltissimo. È importantissimo anche che ci siano i 65 milioni per la circonvallazione di Lucca. Una Toscana che tiene dunque, ci hanno tenuto a ribadire i consiglieri di maggioranza. Mi sembra che la Regione Toscana dentro a questa dinamica, ripeto seppur difficile, che è ovviamente legata al contesto nazionale, non solo abbia dato delle risposte di contenimento e abbia dato delle risposte di tenuta, ma che oggi si avvii piano piano a rispettare anche quegli accordi e quei processi e si era messa in testa di poter attuare dentro una dinamica, un processo di sviluppo. Per l'opposizione, che contesta la vaghezza del documento, occorrerebbe fare di più. Nonostante tutto siamo ancora all'ennesimo librone, forse un po' meno librone, ma sempre un bel libro grosso, scritto in buona parte dall'IRPET, da persone certo di grande cultura, ma è difficile capire da lì quali sono le priorità, quali sono le azioni. Crediamo che la crisi imprenditoriale e la crisi occupazionale della Toscana hanno necessità assoluta di un alleggerimento di una pressione fiscale che è intollerabile nel nostro Paese e che ha elementi aggiuntivi in questa Regione. Siamo ostinati nel reiterare le nostre richieste, anche se abbiamo la sensazione che l'immagine di ascolto sia veramente modesta.